Grazie Presidente. Brevemente ancora per ringraziare tutti i municipi che si sono resi attivi alla formulazione del testo finale. Un ringraziamento a tutti i dipendenti, tutti i funzionari del Comune di Roma che mi sono venuti in ausilio per la redazione di questo regalamento. Un ringraziamento ancora al Municipio Quindicesimo perché come avevo anticipato in discussione generale questa idea nasce nel momento in cui ero consigliere municipale insieme all'assessore all'ambiente del Municipio Quindicesimo Pasquale Annunziata e al Presidente Stefano Simonelli in quanto appunto il nostro municipio, il mio municipio è particolarmente martoriato dall'abbandono incontrollato di rifiuti e dal cosiddetto pendolarismo dei rifiuti rispetto ai comuni limitrofi sperando che questo patto civico come abbiamo detto con i cittadini possa in un certo qual modo attenuare questi incresciosi fenomeni e possano istruire anche la cittadinanza al corretto conferimento e al decoro della nostra città. Ciò detto, spero che venga accolto favorevolmente da parte di tutte le altre forze politiche e che tutte le altre forze politiche possano apprezzare la bontà di questa proposta. Grazie mille.